Non c'è alternativa all'abbattimento delle piante e il triste responso del centro ricerca Basile e Caramia di Locorotondo a lavoro da un anno per studiare la malattia degli ulivi. 16.000 campioni esaminati escludono che il contagio possa trasferirsi fuori dalla provincia di Lecce dove sono stati scovati 5 focolai puntiformi. D'accordo sull'estrema razio dell'espianto i 40 studiosi giunti da tutto il mondo al centro di ricerca per valutare gli effetti della Xylel e mettere a punto un antidoto. Al momento non esiste e si viaggia nel campo delle ipotesi. L'obiettivo è arginare l'emergenza, evitare nuovi focolai. Per questo le analisi proseguiranno al fine di identificare tutti i vettori, gli insetti cioè che trasportano il batterio killer. Tra le cause della diffusione l'abbandono dei terreni e l'incuria degli agricoltori salentini che finiscono per favorire il contagio. Intanto alla regione Puglia l'assessore all'agricoltura Nardoni sta studiando un provvedimento d'urgenza per sbloccare i primi fondi dei risarcimento agli olivicoltori. Il governo ha messo sul piatto 2,6 milioni di euro sui cinque promessi inizialmente ma la somma potrebbe giungere a fine mese in assenza di un intervento della regione che sta stilando pure l'elenco dei primi aiuti con l'attribuzione dei 2 milioni di euro stanziati dall'ente nell'assestamento di bilancio, risorse comunque insufficienti per arginare il disastro.